È stato un giorno perfetto per te? Sì, sì, credo che era buono con il gioco, molti ragazzi stavano soffrendo. In finale ho ancora avuto molto potere, quindi è stato buono. Abbiamo visto a te attaccare molti tempi, quindi oggi hai buoni leggeri. Sì, prima di tutto volevo assicurare che nessuno si arriva. Sì, in realtà stavo insieme per Quinten, ma finalmente non avevo le migliori leggeri, quindi ho fatto la mia chance. Ora siamo pronti per la Tour de France. Qual è il tuo obiettivo? Sì, non so, bisogna vedere se siamo il team. Voglio vedere il G.C. di nuovo, ma prima dobbiamo fare il Dauphiné e spero di farlo. Grazie.